ciao ragazzi ciao a tutti benvenuti al mio canale oggi le nostre prove di penetrazione si vanno veramente interessanti oggi abbiamo un vetro stratificato 8 9 e 150 fogli a 4 dietro dopo di che il muro sempre della solita distanza di 5 metri ripeto 5 metri non mi metto a bruciapelo perché ho sinceramente paura un po di quelli che possono essere rimbalzi o le conseguenze quindi mi tengo a debita distanza ripeto qui intorno non c'è assolutamente nessuno e possiamo andare tranquillamente al tiro ripeto vetro stratificato 8 9 quindi 4 mm di vetro un millimetro di plastica e altri 4 millimetri di vetro non so se si vede e dietro abbiamo 150 foglia 4 l'arma già è carica andiamo subito al tiro questa è l'arma tolgo la sicura e vediamo un po da 5 metri quello che riesce a fare 3 2 1 vai molto potente questa balestra ovviamente eccola qua spero si veda quello che ha combinato intanto questo è quel che resta della freccia questo è quel che resta del vetro stratificato sembra un colpo di arma da fuoco ripeto un vetro di 4 mm una plastica di un millimetro e un altro vetrico un altro vetro da 4 mm totale 9 mm non contenta la freccia eccolo qua si vede chiaramente è andata anche a bucare non so quanti fogli dei 150 che compongono questo mazzo da 5 metri ciao ragazzi se il video vi è piaciuto mettete mi piace fate i commenti e ci vediamo alla prossima ciao a tutti